Questo oggi c'è da registrare la replica dello stesso Cappellacci. Rimangono tesi animi tra il presidente Cappellacci e parte della sua maggioranza. Il governatore respinge con decisione le accuse di cagliari centrismo sull'azione di governo della sua giunta e non risparmia frecciate, emittenti delle critiche, tutti facenti parte del centro-destra ed in particolare dei dissidenti del PDL. Non ho visto molte proposte sul territorio nuorese piuttosto che su quello del Nord Sardegna. Mi piacerebbe confrontarmi di più sui progetti e da quel punto di vista sono sempre disponibile. E proprio il gruppo in consiglio regionale del PDL, presente lo stesso Cappellacci, si è riunito in serata per un confronto. I dissidenti rilanciano le accuse al capo dell'esecutivo regionale. Nell'ambito del nostro elettorato, nell'ambito della gente, nei territori che si sente questo disagio nei confronti di una politica regionale che ancora non è parsa chiara a tutti e soprattutto non è parsa chiara a tutti che ci sia un uguale interessamento per tutti i territori della Sardegna. Le proposte arriveranno sul tavolo se non sono già presenti. Verranno poste sia nelle commissioni competenti che in aula. Sono sicuro che il Presidente usarà quella grinta per risolvere quelle problematiche e verranno sollevate nel tavolo regionale. Il Presidente della Regione però è molto più duro sulle qualità necessarie per far parte di una maggioranza di governo. Essere maggioranza non è facile, non è facile perché comporta senso di responsabilità, comporta generosità d'animo, comporta progettualità. E allora probabilmente si trova, come dire, più semplice fare l'opposizione o se non ci si trova l'opposizione ma in maggioranza ci si ritaglia uno spazio intermedio e sul fronte della protesta è facilissimo. Protestare e accendere con un cerino la fiammata della protesta in un momento di crisi straordinaria quale è quello che stiamo vivendo è sempre facilissimo. Il tutto mentre domani sarà ufficializzata dalla Giunta alla data del 30 maggio per le prossime amministrative e tra giovedì e venerdì invece si terrà il vertice dell'intera maggioranza di centrodestra. L'obiettivo è far riuscire a quadrare il cerchio sulle anze ai candidati a cavallo di Pasqua.